Ho già parlato della nuova norma relativa al, chiamiamolo nuovo super bonus, non viene chiamato così nella proposta di legge, che dicevo precedentemente che appunto è un grande segnale positivo. Grande segnale positivo perché il nuovo governo prima ha tentato e ha sostanzialmente distrutto il super bonus, praticamente togliendo lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma adesso si fa avanti a marzo del 2023 proponendo un qualcosa che non va bene, per carità, però è un primo passo assolutamente importante. Essendo una proposta di legge non è nulla di definitivo, è un'idea che è stata portata all'attenzione del Parlamento per una finalità e oggi parliamo della finalità. La proposta di legge fa appunto presente che siamo all'interno di quel perimetro che è la direttiva Case Green, una direttiva della Comunità Europea di cui ho già parlato, con la quale è previsto che le abitazioni debbano essere in classe E entro il 2035 e in classe D entro il 2040. È assolutamente fondamentale naturalmente che gli stati dell'Europa si configurino, che si conformino a questa direttiva, altrimenti dovranno pagare delle multe salate e potrebbero esserci anche delle diciamo ripercussioni sulla vendibilità o sulla locazione di quell'immobile. Lo Stato italiano naturalmente è assolutamente diciamo al corrente che gli italiani non hanno la possibilità di poter fare questo tipo di riqualificazioni energetiche qualora non vi sia un aiuto. Per citare un attimo i numeri si parla di un beneficio fiscale del 60% per un massimo di 100 mila euro di detrazione. Ma al di là dei tecnicismi, che probabilmente è troppo poco, forse è abbastanza, io questo non lo so e non è questo il luogo, o meglio il momento per parlarne. Ma rimaniamo sulle finalità. Una è questa, i parlamentari della Lega, perché il primo passo l'hanno fatto loro e giustamente bisogna darne merito. In realtà il secondo passo, perché il primo passo insieme al governo, diciamo due governi fa, avevano emanato assieme agli altri partiti anche il vero e proprio super bonus. Le cose poi tra loro, il matrimonio è finito e quindi non dobbiamo più parlare di super bonus, perlomeno in ottica carroccio, parliamo appunto di questa nuova, di questo nuovo bonus, di questo bonus che ha la caratteristica di essere strutturale, cioè dura fino a quegli anni lì, cioè ci durerà dieci anni, sostanzialmente, o qualcosetta di meno, o qualcosa di più, perché è fino al 2040, e quindi ci darà la possibilità di diventare strutturale, quindi non ci sarà più l'affanno di dover correre, non ci sarà più l'affanno di dover sopportare costi magari un po' maggiorati, non molto, ma abbastanza maggiorati anche per il super bonus, e quindi raggiungere l'obiettivo, la finalità della direttiva casegrin. Un altro aspetto che questa proposta di legge e quindi i parlamentari che ne sono firmatari hanno individuato rispetto al super bonus, che è stata una normativa socialmente iniqua, e qui non mi trovo d'accordo, socialmente iniqua non sono d'accordo perché era previsto il sostanzialmente gratis, sappiamo che non era proprio così, però il sostanzialmente gratis per tutti, non è iniquo quando io ti do la possibilità di ristrutturare, di riqualificare energeticamente la tua casa se sei una persona che ha delle difficoltà economiche rispetto alla possibilità di riqualificare l'immobile se sei una persona biente. L'immobile è un immobile, l'immobile viene riqualificato, chi lo vuole fare lo fa e questo secondo me è il massimo dell'equità. Forse hanno scritto male e intendevano dire non viene rispettato quel classico parametro che viene utilizzato per esempio per pagare le imposte o le tasse meglio, dove è previsto che chi è più ricco paga più tasse, chi è meno ricco ne paga meno, forse volevano intendere questo. E questo tipo di idea di questa proposta di legge effettivamente va a percorrere questa ottica, questa idea, nel senso che è previsto per esempio per, ma non voglio dire previsto, è ipotizzato in questa proposta di legge che chi non abbia certe capacità economiche possa addirittura fare lo sconto in fattura nei confronti di banche oppure nei confronti dell'impresa al 100%, mentre chi non è in quella condizione invece dovrà anticipare tutto il denaro per poi recuperarlo dalla propria IRPEF, quindi l'imposta che è prevista per le persone fisiche sui propri redditi in 10 annualità, quindi una rata molto ben diluita, non troppo alta in modo che ci possa essere la capienza, vuol dire la capacità di poter assorbire tutto il credito d'imposta che si è generato e per un importo di detrazione massima di 100.000 euro. Noi eravamo abituati con la detrazione al 50% che prevedeva che tu spendevi una certa cifra, ne potevi detrare solo il 50%, qui è migliorato, per l'antisismico e per l'efficientamento energetico andiamo al 60% e poi 10 anni, rimangono 10 anni, si è vista che è una formula ben bilanciata, un tempo corretto, mentre prima al massimo potevo spendere 96.000, adesso ne posso spendere 100.000. Ma si inizia bene, io sono molto fiducioso perché ritengo che si inizia veramente bene. Questo è il primo passo e ritengo che si sia veramente nella strada giusta. Poi ci vorrà ancora del tempo, non è necessario che finiamo tutta sta cosa entro la fine dell'anno, potrebbe venire febbraio, potrebbe venire primavera, ma può essere migliorata sempre più. Ecco, poi un altro punto nel quale non sono d'accordo che, appunto, sottolineando nella prima parte che per molti aspetti questa normativa era errata, che era socialmente iniqua, che non c'erano le coperture di bilancio, al punto da richiedere molteplici interventi correttivi. Questa indicazione in realtà può essere corretta su alcuni aspetti. Facciamo un esempio. Per esempio è dovuto esserci un correttivo secondo il quale era necessario, per esempio, nei condomini, vi sto parlando del super bonus, nei condomini che bastassero i 334 millesimi. Oppure il fatto che, e qui siamo ad agosto del 2021, non fosse necessaria la conformità urbanistica ai fini del bonus, ovviamente non erano un condono, perché questo portava a gravi, diciamo, rallentamenti. Ma tutte le modifiche normative riguardanti l'accessione del credito, riguardanti lo sconto in fattura, in realtà sono state non pessime di più, sono state terribili, sono state, come si può dire, faziosamente create solo ed esclusivamente perché l'Europa si era impaurita che l'Italia avesse inventato un oro tricolore che è la mercato dell'accessione del credito, con il quale l'Italia sarebbe diventata il primo paese d'Europa. E quindi l'Europa ha tirato le orecchie a Draghi e gli ha detto devi demolirmi questa cosa, perché voi italiani dovete continuare a rimanere dietro i fanalini della Germania. E questo è la verità, e questo, scusami la polemica, ma è quello che è accaduto. Vita nuova, normativa nuova, la costruiamo meglio, abbiamo tante esperienze, io voglio fidarmi di chi è a Roma e chi ha votato uno, chi ha votato l'altro, ma adesso ci rappresenta. Io sono certo che andremo nella direzione giusta. L'unica cosa che mi preoccupa, in realtà, non è Roma, ma la fiducia che le persone hanno perso nel governo, perché il super bonus grande occasione è stato minato in maniera, come ho detto prima, diciamo poco corretta, poco leale e le persone si sono trovati, dalle imprese ai privati, si sono trovati in grave difficoltà in molte occasioni. Colpa, responsabilità, 100% del governo, che non ha assolutamente voluto risolvere il problema. Non lo ha ancora fatto, vediamo se farà qualcosa prima della fine dell'anno, ma norma nuova, vita nuova, secondo me saremo in grado di ripartire. Seguimi sui miei canali, sui social, sul sito internet, ricordati la campanellina e metti mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!